Nella giornata mondiale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si è tenuto questa mattina un incontro nella sala Galilei di Città della Scienza. Gli allunni degli istituti Galileo Ferraris e Isabella Deste hanno letto il lungo elenco dei morti sul lavoro, subito dopo un omaggio alla lapide che in Città della Scienza onora i caduti sul lavoro. La manifestazione rientra nella tre giorni Love Sicurezza che dal 26 al 28 aprile alla Rotonda Diaz ha focalizzato l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro che ha coinvolto le scuole, i laboratori didattici, esercitazioni, simulazioni antincendio ed ha visto momenti di spettacolo e di approfondimento. La tre giorni è promossa dall'Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro Napoli-Città Sicura presieduto da Vincenzo Solombrino in collaborazione con l'Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro e di partner istituzionali e associativi dell'Osservatorio. In programma un anno ricco di progetti e campagne informative per tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro.